manca solo cocktail blu all'appello ci siamo tutto pronto si aprono le gabbie parte cavalli della prima corsa dall'interno high goal più veloce altro che ha colto una buona partenza è special mission con la giuba bianca e blu poi in terza posizione troviamo rusele suiti completare la prima linea c'è l'altra giuba gialla de herdandi all'esterno noi tutti c'è l'altro co favorito il re gabri seconda linea invece è completata da winning black che ha al suo esterno cocktail blu ed ancora chalawan si procede così con l'andatura che sta andando progressivamente ad aumentare in vantaggio c'è rusele suiti che ha cominciato la sua lunga progressione al suo esterno si presenta il re gabri ha spostato per corsie più esterne anche high goal che ha chiuso da favorito all'interno ha trovato un ottimo varco anche winning black poi all'esterno ancora cocktail blu e gli altri che non vengono avanti quando siamo a 200 al traguardo il re gabri è passato in vantaggio nei confronti di rusele suiti high goal che ha cominciato anche lui a venire un pochino avanti con il re gabri che ancora davanti high goal che sferra l'attacco nel tratto conclusivo lo giustizia sportivamente high goal che dunque concretizza i miglioramenti di qui sopra vincendo al sesto tentativo la sua maiden con antonio fresu in sella per il training di mario giorgi colori di renata ramondini talon questa è una delle giubbe più antiche che l'italia possa ancora vantare come avete visto è partito da uno steccato basso ha preso l'azione giusta ha aggirato il re gabri e lo ha fulminato proprio a fil di palo vince numero 3 nei confronti del 4 vediamo per il terzo 3 4 e poi 7 per il terzo posto da capanelle per la prima è tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti